Con la vittoria di domenica scorsa Gianmarco Pozzecco ha conquistato la 17esima vittoria da quando siede sulla panchina dell'Orlandina Basket, cioè 30 partite fa, ed ha sorpassato Franco Gramenzi, ferma a quota 16. Adesso il Poz ha nel mirino il sorpasso che lo collocarebbe al quarto posto degli allenatori più vincenti della storia recente dell'Orlandina. Due califfi del calibro di Romeo Sacchetti e Tony Trullo, fermi a quota 19 vittorie. In questa speciale classifica gli allenatori più vincenti sono Maurizio Cucinotta e Giovanni Perdichizzi con 71 vittorie, poi Peppe Condello con 55. Ad onore del vero va evidenziato che le vittorie dell'attuale coach della Sigma Barcellona hanno un peso specifico superiore vista la caratura dei campionati alla quale è partecipato, una stagione di B1, una stagione in A2 e due stagioni in A1. Avanza anche nella speciale classifica delle presenze totali la Mosca Atomica che domenica prossima contro Napoli raggiungerà le 31 presenze di Gianni Lambruschi, attualmente al quinto posto. Davanti a lui i soliti noti, Perdichizzi leader con 135 presenze, Cucinotta con 89, Condello 64 e Melosacchetti con 37 presenze sulla panchina della squadra del presidente Sindoni. Siamo sicuri, e questo è il nostro augurio, che già Marco Pozzecco, fresco di rinnovo contrattuale con il club di Via Alfano, che scaderà nel 2019, riuscirà a polverizzare tutti i record statistici relativi ai 15 allenatori che hanno caratterizzato l'era sindoniana. Grazie a tutti.